Non sanno più a chi rivolgersi, a quale santo votarsi, i precari della protezione civile del Molise che erano stati assunti con contratto a tempo determinato per la ricostruzione post-terremoto. Da un anno hanno terminato la loro attività ed ora chiedono che venga annullata la determina dirigenziale con la quale l'Agenzia regionale di protezione civile seleziona nuovo personale. Dopo essersi rivolti in vano ai vertici della regione, oltre che a quelli della stessa agenzia, i precari hanno scritto direttamente al ministro della pubblica amministrazione Madia e perfino al presidente della Repubblica Mattarella affinché si accendano i riflettori sulla loro situazione. I lavoratori erano stati assunti dalla struttura commissariale per fronteggiare l'emergenza che si era venuta a creare dopo il sisma del 2002. La loro attività è andata avanti tra varie proroghe dello stato di emergenza quasi ininterrottamente fino al 30 aprile del 2012 quando le attività sono state interrotte. In quel periodo la regione istituì l'Agenzia regionale di protezione civile e attraverso un concorso pubblico furono reperite 218 persone tra ingegneri, architetti, geometri e avvocati che avrebbero dovuto lavorare per 36 mesi. I rapporti di lavoro si sono chiusi il 29 febbraio 2016, ma a settembre dello stesso anno la stessa agenzia ha bandito un nuovo concorso per il reclutamento di nuovo personale per lo svolgimento delle stesse attività svolte dei lavoratori che sono stati invece mandati a casa. Il personale con esperienza decennale selezionato con regolare concorso è stato mandato a casa, si legge nella lettera inviata al Ministro, azzerando di fatto un patrimonio di competenze professionali per ripartire da capo con nuovo concorso per nuovi lavoratori, con evidente dispendio di denaro pubblico, l'elusione dell'attuale normativa che prevede, in presenza di specifici requisiti, l'avvio alla stabilizzazione. Dobbiamo abituarci all'idea che in Molise si viva fuori dalle regole? Noi viviamo in uno Stato di diritto ed è anche compito del Governo centrale vigilare affinché queste distorsioni non si verifichino e l'accorato appello dei precari che chiedono di poter rincontrare il Ministro per illustrare la situazione in cui si trovano.